gloria gloria a Dio lo signore è grande corregge test corregge test in questi giorni ci sono tante prove ma il signore ci dà ansia di sopportarlo corregge test tutto noi dobbiamo soltanto essere sempre più vicino a lui a Dio e a Gesù solo così le prove possono essere affrontate e superate questo ciò che noi dobbiamo essere senza una difficoltà dobbiamo arrivare con la preghiera ai piedi di Gesù versando tutti le angustie le nostre difficoltà e a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vogliamo pregare adesso. Vi ricordo che quando si prega è possibile inginocchiamoci ai personaggi. O con lamento. Perché solo così le nostre preghiere arrivano al nostro Padre Celeste. Grazie a tutti. Per essere più vicino bisogna accostarsi ai piedi di Gesù perché Gesù è la linea per dare il Padre Celeste. Dio d'amore. Se non si fa, diceremo quello che è possibile della vita. Perciò quello che chiedeva, genocchiamoci adesso o con la mente o con il po' e chiamiamo di. Dio. Mentre ci accostiamo ai piedi di Gesù. E siamo incinocchiamo ai piedi di Gesù. per... 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 di una benedizione totale, grazie che oggi possiamo venire a te con un amore, Padre Celeste, oggi vogliamo mettere tu qui ai tuoi figliolo, tra le nostre angustie e le nostre malattie, grazie a tutti i nostri amici, grazie a tutti i nostri amici, grazie a tutti i nostri amici, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.